Siamo nel progetto intensico anniversario degli eventi di cui si è già accennato fino a questo momento. Questo appuntamento ne segue altri che sono stati fatti soprattutto in questa zona, visto che in questa zona sono avvenuti questi avvenimenti e sono avvenuti esattamente dove in questo periodo dell'anno, in un mese di marzo del 2019, nel 120 anni fa. Credo che un incontro si sia fatto anche a Ittri. Qui naturalmente si parlerà anche del risultato che riguarda questa nostra terra a cui poco fa faceva riferimento anche il sindaco. Nel testo però si parla e si nomina anche altre località in cui ci sono stati questi fenomeni di insorgenza e quindi di reazione della parte avversa, Ittria, Maranola e così via. Ma come diceva il sindaco, questa è un'operazione di carattere soprattutto culturale che ha rispetto delle diverse opinioni ma che nello stesso tempo ci dà la possibilità di tirar fuori dalla lettura e dalla discussione su questo tempo tanti spunti di riflessione e tanti temi che andrebbero sicuramente approfonditi nonostante questi nematini si non si ordinano